ora oggi io faccio il riso fritto con i frutti di male faccio vedere come si fa ne questo qua raggiunge a uova così questa qua salsa questa salsa di soia così poi quando tutti i pezzi ben cotto aggiungiamo il riso dentro adesso il mio riso è pronto questo qua si chiama il riso con frutti di male spero che voi magari qualcuno che piace mangiare il riso o magari il riso tipo il riso cinese però io mi aggiungo proprio poco poco l'olio perché a me non piace troppo olio adesso ho finito un piatto ciao ciao a tutti